buongiorno ciao papi buongiorno siamo allora siamo a mi sfugge il nome mi viene castino della presola clusone siamo a clusone perché oggi andiamo alla contea delle streghe allora oggi siamo a clusone ciao viola perché andiamo alla contea delle streghe che è una mercatino ci sono un po di attività eccetera e adesso prima di andare alla contea delle streghe andiamo a pranzo alla baitella alla baitella adesso siamo con anche la stefi e la nonna lina aspettiamo che arrivano poi ci dirigiamo alla baitella perché stiamo morendo tutti di fame anche voi ecco io no invece io non vedo l'ora di andare a mangiare papi ti stai gustando cosa hai fame io il cervo ragazzi mi spiace nicola vegetariana ma io quando c'è il cervo nel piatto abbiamo parcheggiato di fianco a un cervo di legno abbiamo trovato i cervi quelli veri sono piccoli adesso li vediamo praticamente qua di fianco alla baitella ci sono i cervi allora qua è l'ingresso del recinto e qua ci sono i cervi è brava sofì allora vediamo cosa c'è scritto vietato dare da mangiare bene mi sembra adatto mauri si fanno accarezzare ciao guarda che belli e si è salzato che belli il gatto andiamo ok bellissimo sopra guarda con vista proprio si sono messe no ancora no allora sai che non ho capito cosa vuole gli antipasto il tagliere gli salumi io lardo capito facciamo il salumi con polentina e porcini poi tanto abbiamo risotto 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 di ortica e taleggio giusto e sono con farina di mais rostrato rosso non so com'è no è una pasta ciao ma che bello qua fuori ah ma qui siamo all'altezza del parcheggio no è perché noi per entrare siamo scesi da lì e siamo andati sotto mamma hai barbi hai barbi mauri le prossime gare abbiamo riaccompagnato la nonna a casa dopo pranzo perché il giro sì perché per la nonna è un po stancante girare la contea delle streghe ciao nono ah ma fai vedere queste super boxer trecce che è stato un esperimento c'è anche dormito sopra però miglioreremo ciao quindi adesso che abbiamo lasciato la nonna a casa andiamo alla contea delle streghe posso tenerlo? a te che tonza ricolle dai scusa io avevo lasciato papà su quella panchina non c'è più è morto non ho rapito gli alieni hai già salito in macchina papi stava apprezzando queste casette qua sulla destra domina perché? perché si affacciano direttamente sulla pista di atletica quindi ha detto che se lui abitasse qua tutti i giorni salterebbe direttamente sulla pista di atletica guarda questa oltretutto la vendono mica male questa sai che non riesco a capire perché c'è sto buco in giardino dove va? c'è tipo un box eh ma da dove entra scusa? mamma oh dio eh capito non capisco il senso di quel buco lì ma no ma da dove si entra in casa? da qua cosa ci metti? pista d'atletica vista montagna hi daddy siamo arrivati siamo pronti dobbiamo partire vado a stare dietro che sta scendendo ah sì ci ha portato l'acqua ha un bello riso ahhh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La gelateria è lì? La gelateria è lì. Aspetta. Sì. Sì? Sì. Ma è uscito due all'idea. Oh, allora funziona. È uscito due volte, sì. E questa è la giornata per il tempo, aiuto. Fantastico. Guarda questa casa che bella. Questa è bellissima, guarda. Mamma, quanto è... È glitterato! È glitterato a casa mia perché alla fine mi darebbe fastidio. Sì, è qua la gelaterina. Non ti senti più i piedi, vero? No. 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 Non ti senti più i piedi, vero? No. 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 Grazie a tutti